Allora, noi abbiamo declinato questa sesta edizione del Festival Cultura Creativa al tema dell'intelligenza. Intelligenze declinate al plurale proprio perché le intelligenze sono quelle cognitive, quelle razionali, ma sono anche quelle emotive, quelle che poi generano impatti in termini di arte, di cultura, di crescita ulteriore della società. Sotto questo profilo l'intelligenza è anche ciò che riguarda il presente, il passato e soprattutto il futuro. Tant'è che parliamo sia di intelligenza declinata sotto il profilo più tradizionale che è quello umano, ma anche guardando al futuro quello che è l'intelligenza etico-artificiale.